Motori al massimo, su di giri per la nuova stagione dei trofei Wheel Up Motoestate, pronta a scattare il 7-8 maggio a Franciacorta per il primo di 5 round della 24esima edizione. Passione, gare ed eventi a corollario per fare divertire tutti in un weekend di motori a 360 gradi. Perché Motoestate non è soltanto corse, ma anche show, motoraduni e spazio per i più piccoli con iniziative dedicate a loro. In pista lo spettacolo è garantito con le ormai classi storiche del torneo più longevo d'Italia. Mini Open, Naked, 600 moto di serie, 1000 moto di serie, 600 moto estate, 1000 moto estate e la formula Race Attack, gara in giornata, che avvicina le corsi praticanti delle prove libere. Tutti possono correre ai trofei Wheel Up Motoestate con qualunque tipo di moto, vista la verità di categoria, ai nastri di partenza. Nel trofeo che negli anni ha visto militare i migliori piloti nazionali, la tradizione anche quest'anno continua. Ci sono da un lato protagonisti con buoni palmaresse, dall'altro giovani che scalpitano e si fanno largo tra i oltre 200 piloti al via per iniziare a costruire il proprio futuro e dall'altro ancora amatori che avverano il loro sogno di correre una gara vera. Un torneo davvero alla portata di tutti, per tutti e per tutte le tasche con una formula di gara intensa che occupa soltanto il sabato e la domenica. Cinque weekend in programma e sei round da disputare, con un appuntamento doppio ancora da definire sulle piste del Nord Italia. Il via della stagione, come da tradizione, il 7-8 maggio a Franciacorta con mini GP e mini moto a completare il programma ed eventi nel paddock, tra cui spicca l'ormai classica moto concentrazione di Franciacorta, aperta a tutti i bikers con qualunque tipo di moto. Si proseguirà poi con il secondo round di Varano l'11-12 giugno per poi andare a Modena il 9-10 luglio, tornare a Varano il 6-7 agosto e dopo le vacanze l'ultima sfida stagionale il 24-25 settembre di nuovo sul circuito di Franciacorta. Per chi volesse iniziare ad avvicinarsi al mondo delle competizioni e iniziare a respirare l'aria dei trofei da dentro, da non perdere la formula di prove libere e messa experience. Dieci appuntamenti aperti a piloti amatori con format diversi dalla consuetudine e un premio imperdibile, l'iscrizione gratuita ad una gara della Race Attack. Per qualunque informazione e conoscere le novità continue del moto estate e del mess experience, visitate il sito www.trofeimoto.it Appuntamento in pista e tanto, tanto gas!